Questi altri fuochi, tutti contemplanti, uomini furo, accesi di quel caldo che fa nascere i fiori e i frutti santi. Credo che sia stato un evento per tutta la città e senz'altro per i partecipanti, perché ha reso centinaia di persone protagoniste di un atto di generosità e di bellezza, direi insolito, ho partecipato e quello che si vedeva da fuori, quello che mi è capitato di vedere come spettatore privilegiato era proprio un'armonia, un ordine, quasi un rito collettivo che aveva come unico scopo quello di obbedire, di regalare la bellezza di questi versi che tutti sappiamo sono unici nel mondo. Matera è stato il cuore di questa rinascita di Dante, però Matera in quanto capitale della cultura ha perso i confini e il fatto che ci fossero delle parti di Divina Commedia tradotte in altre lingue e il fatto che qui vicino a me ci siano persone venute da vicino Napoli, dal Veneto, da Roma, dove con un legame forte con Matera ci dà proprio l'idea di questi confini che si annullano e di questa universalità che noi vogliamo trasmettere da Matera e che costituisca il messaggio che la cultura viene prima di tutto da tutti noi, siamo noi che la costruiamo con il nostro orgoglio di appartenenza, con i nostri patrimoni personali e che possono costruire, possono renderci persone migliori. Insomma è un'esperienza da ripetere. È una di quelle cose che si può far meglio da Matera, perché portare Dante da Matera in questo modo, in maniera ancora più importante, sarà un bel gioco probabilmente. Ed è una di quelle cose che probabilmente va fatta da Matera capitale della cultura, perché assistere a un eventificio o piuttosto che a tutta una serie di speculazioni e di solite cose che insomma siamo abituati a vedere in ogni contesto, sarebbe un peccato perché Matera è una città che ha ancora tanto tanto da dire e da dove si può dire tantissimo. Grazie.